Salve a tutti raga, ben ritornati con Mr. Wattie Oggi finalmente, dopo tanto tempo, siamo tornati su Yu-Gi-Oh Non so se vi ricordate, io sicuramente no Dove eravamo rimasti Abbiamo sbloccato questa parte dopo che abbiamo sconfitto Il Signore dei Vampiri, la Lady Vampire nel loro castello E adesso abbiamo sbloccato questa parte Quindi altri duelli tag, perché siamo nel mondo tag rigorosamente Credo che le più scarse dovrebbero essere le arpie Credo, perché gli altri sono pure peggio C'è un individuo dall'aria molto sospetta, altezza Chi credi di essere, identificati il più presto Si duella, perché il Yu-Gi-Oh si fa quello Non osi veramente sfidarci, la Regina ti farà prezzo e non battere d'occhio Quindi, questi due ovviamente hanno il deck Arpia Come ben capite E dato che stanno insieme, saranno fortissime Perché capite che hanno sempre il deck Arpia Quindi girarà, che è un piacere Le carte non sono male, però Si può fare qualcosa Allora, bianchetto, subito E andiamo a 9000 Tac Andiamo con calma Con Clown del Sogno Me lo spacchiamo Anzi no Se provano a spaccarmelo Io c'ho va Boku E si spera che poi il mio compare Non metta in posizione di difesa Così li devastiamo Non c'è niente E lo sapevo che sacrificava per raggiungersi nello spazio Immagino Comodoro mistico Non so come faccia Perché tecnicamente Ha un mazzo debole Perché Punta solo a Neosero Elementale Le fusioni Però funziona E vinco sempre Non so come hai Come sia possibile Perché non ha il mazzo decente Lei avrà qualcosa da Boku Immaginavo Perfetto Così non succede nulla E si caga un po' sotto E c'ha ragione Adesso devastiamo tutto Tutto vi dico Tutto Andiamo con calma Va Ingannatore ce lo teniamo ancora per buono Subito Perfetto Morta Così è deciso Basta Voila Attacchiamo tranquillamente E con un bel 1800 di retti No Prigione dimensionale E poi aspettano sempre il più forte Mannaggia l'ho Che fastidio E quindi Mettiamo il picciolio Ricoperto Che fastidio che sono Sto due No Perché poi Questo è proprio Un'impostazione Per tutti i giocatori Di questo gioco Che aspettano sempre il più forte Prima di attivare la trappola Dai dai Ah Addirittura Addirittura Sono così arroganti Che mi distruggono Entrambi i mostri Ah si eh E mi sa che dovrò Poi sfruttare Che cazzo Uso il picciolire Per ridurmi il danno Dai Usiamolo il picciolire Per distruggere dei mostri Effettivamente E quindi mi sa Che dovrò sacrificare Sanghan Purtroppo Però devo subito Mettere l'ingannatore Bravo E dunque Ma il picciolire è coperto Vabbè che forse Preferisce aspettare Però Ecco Ecco la cagata E purtroppo Ci studiamo 2400 danni Però con il picciolire Siamo abbastanza A cavallo Perché appunto Abbiamo un 1200 davanti È un livello 5 È un livello 6 Niente Quindi non potrei neanche Attraver comprare un antagonista Quindi facciamo così Perché non ho altra soluzione Bruciamoci Sanghan Ma è l'unica Io ci provo raga È l'ultima possibilità che ho Non ha nulla Pulito pulito Lo distruggiamo così Perfetto Voilà E voilà E si termina il turno Così non hanno più neanche un mostro Mi sa che puntavano tutto su quello Adesso Non hanno nulla Ve l'ho detto io L'ho detto Non c'hanno nulla Vabbè Quella archiva lì Non c'ha mai niente Quindi non fa molto testo Comodoro mistico Eh certo Non poteva essere Altrimenti che Un tiputo controrenziale Non avendo mostri Gli avversari ovviamente E fanno la cafonata Per la sonica Va bene Comprare un antagonista Un po' sprecato Ma va bene Ci piace così Va bene Almeno ci ha parato da un attacco Un po' sprecato Perché magari Vabbè Io di livello 3 Non ne ho tanti di forti Quindi va anche bene Più che altro sono livello 4 Le spaccano Cilindro Eh eh Pian piano A fatica Li riduciamo a zero Ste qua Pian piano Vediamo se avocano Magari il mostro più forte No Eh cilindro Eh 1700 un po' poco Quindi se abbiamo un altro cilindro È fatta Però Non ce l'ho Tributo torrenziale Così Eh Bravo Perfetto È una fatica Raga A fare i due litag Per quello Gli hanno introdotti dopo Bravo 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 Via tutti decimati Per questo Gli hanno introdotti dopo I due litag Perché come vedete È un'ansia continua Perché È difficile veramente Coordinarsi Ma cosa Ascia di istruzione Cosa La metto coperta Di solito non metto Le carte di equipaggiamento coperte Però Visto che siamo in tag Magari può servire Ai mostri di battera nera E niente Meno male Almeno Lei ci fa sempre fare Un turno in più per niente Velo del bozzolo Ah Pensavo usasse Oltre l'anima E velo del bozzolo Non importa Ma scusa A parte che potevi devastarla Potevamo vincere Equipaggiava Il Ascia di istruzione A questo mostro qui Andava a milotto Attaccato diretto Abbiamo vinto Niente Non l'ho fatto Non poteva mancare Attacco Icaro Ne ho spazio Versaglia Ed è certo Non ho capito Non so Non ha finito Forse ha finito Le pantere nere Non so perché Non ha attivato Il velo del bozzolo Vabbè Muschelo minoso Almeno quello Lo mettiamo Che è un po' Una difesa Un'oscura Questo mostro Abbiamo vinto Voi sapete Perché Ha dovuto fare Sta cagata Voi lo sapete Avevi un miliotto in mano Era chiusa la partita No Dovevi fare l'altro cagata Cioè raga Io non ho capito Veramente Cosa sta facendo Questo qua A parte che abbiamo Ascia di distruzione Comunque Io direi di chiudere La partita adesso Di Se il moschio luminoso Non fa cagate Lady Arp Perché esiste Il moschio luminoso Raga Perché Ecco Il fulmine vortex Ecco Ci mancava Corruzione oscura E adesso c'è il mostro coperto Non atticcare più Si spera che Non abbiamo vinto Raga Se lui mette Solo un mostro con effetto La chiudiamo No Metti Grandiosa talpa Gli perde solo mille Niente È un cretino È un cretino Raga È un cretino Ma perché E poi vinciamo lo stesso Si spera Io non lo so Ma perché Devo essere fincato Era così un fenomeno Una volta Vabbè che a mille e tre Comunque Poi c'è Toccava il grandioso talpa Era finita Perché perdeva 1500 direttamente Per effetto E non poteva fare nulla E invece no Tutto perché Non poteva aspettare Tre secondi E avevamo vinto Facciamo la cagata Bravo Complimenti Bravo Deve per forza ridursi All'ultimo Prima andava così bene Il mio compara Adesso no Deve far cagare Attacchiamo Con un angeleso talpa Vediamo se Riusciamo a vincerla Ovviamente Fattura ai gecchi Grande Grande Vai così E quindi fa attacco diretto Fino alla fine Raga Col fiatro sospeso Io non ho parole Abbiamo Siamo stati sculati In una maniera Incredibile Sono stata sconfitta E un po' a fatica Ma ce l'abbiamo fatta Ma voi non potete Perdere l'altezza E invece si Sono spariti tutti A quanto pare Proviamo con loro Vediamo se Sono scarsi Oppure Oppure no Gli hanno ipnotico Cosa vuoi da me Di essere inferiore Addirittura Partiamo così male Te ne pentirai Ti devono assaggiare La forza Si va bene Non è il dragon ball Non so in realtà Come collimeranno Questi due Mazzi Perché come notate Uno è il mazzo alieno L'altro è il mazzo zombie Quindi è strano Non è unito Come le due arpie Però vabbè Ce lo tiriamo così Oh gigantes Abbiamo un sacco Di combo da fare Quindi Subito arroganti Con il maestro Kiyoshi così E buco trappola Ah si Ma Che effetto ha Perché Non può taccare Direttamente il giocatore Ogni volta Che questa cazzo C'è un mostro Rimusce il suo attacco Di 200 No Però Te lo distruggo subito A inciampare Sfruttiamo lo stesso Lo stesso tocco Di gioco di uomo fagiolo Che abbiamo visto Non funziona Ma tu sei un cretino Ma hai tempesta potente Vabbè Che siamo in vantaggio Però Forse non ha tutti i toti Perché tempesta potente Magari E' meglio tenerla Per dopo Perché Comunque Siamo in vantaggio Abbiamo un 1750 In difesa E' raro Che un mostro La superi Se di lo quanto inferiore Quindi Potrebbe anche starci Ma in difesa Lei M'hai deciso tu E quindi Ah Ah Queste cose Di mazzi alieni A me non piace Il mazzo alieno Vabbè Ma non fa nulla Ogni volta Sempre Stemagieto Ah A metto un segnino Un mostro scoperto Che controlli Va bene Anche il mio avversario Cioè Uno dei miei mostri Poi dire Questa carta Sono quando Sul terreno Sento che il tuo avversario Avete 5 o meno Carte sul terreno Fino a quando Un numero complessivo Di ogni carta Che un giocatore Può avere sul terreno E 5 Che merda Posso dire Che merda raga E infatti Non posso più evocare Niente Solo Demone Mega Cyberman A stronzata Il problema E che inciampare Di nuovo Come è successo A giro di uomo Fagiolo Lo danneggia Più che lo aiuta Quindi in realtà Ci va bene Meno male Non ha ancora Un alieno Che diminuisce L'attacco La difesa Se usate in pressa potente È un mito Però forse non può Eh no Non può Ma perché Ma per 50 Vabbè che non cambia Effettivamente molto Però io avrei attaccato Al contrario Sono scarsi Sono abbastanza scarsi Devo dire E anche però Che noi non è che abbiamo Un mazzo da 4 soldi Quindi Non è così brutto Per dare contro di noi Almeno E vabbè Però adesso Non c'è nulla Che ci diminuisca L'attacco Oh La zona A addirittura Non so cosa faccia Abbiamo vinto raga Addirittura abbiamo anche Un altro posto Va bene così Mettiamo lui Contro un mostro alieno Un mostro per 300 Solo nel calcolo dei danni Non ce n'è di mostri alieni Avete perso A casa A casa signori Una bellissima vittoria Ci voleva proprio Tutto perché si sono fregati Da soli Con inciampare Ma voi in mazzo zombie Avete visto che di base Se non carbura Come l'hanno scritto Perché è un alieno Giustamente Io direi che Possa essere tutto Cos'è successo Come ho potuto perdere Vabbè Non so chi sia Vediamo chi è Un attimo Ufora di Undos Abbiamo un contatto con te Cerca di indovinare il simbolo A cui sta pensando Ma cosa Ma siete impazziti Ma che cazzone Lo indovina E mi regalava Non so come E come sia possibile Perché il gioco Poteva rifiutare A prescindere Invece L'azzeccato Potre stare pensando A un simbolo A caso Vi ringrazio come al solito Per la visione Su questo video vi ricordate C'è un like Di commentare Di condividere E passate in descrizione Per il mio secondo canale Per il massimo Il mio canale Votti felici Se vi ci scopri Invecchi e dimenticati Sul mio filo Atpadesforstorie E su 2d4games.com Dove parliamo di un gioco A 270 gradi E trovate anche Il link di Amazon Con i componenti Di mio pc Io vi ringrazio Quindi come al solito Per la visione Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti